Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Il femminicidio di Giulia Cecchettina ha suscitato una profonda ondata di sgomento. La giovane avrebbe potuto essere la figlia o la sorella di chiunque. Su questo tema, Vittorio Feltri ha condiviso il suo dolore in un post sul suo profilo Twitter, dichiarando, la ragazza uccisa, Giulia, non riesco a dimenticarla, provo una pena infinita, ma allo stesso tempo esprimendo fastidio per le dichiarazioni dei familiari e della sinistra. Nel rispondere alle lettere dei lettori, il direttore editoriale del giornale ha sottolineato la necessità di combattere la violenza sulle donne, ma ha mostrato perplessità riguardo all'elevazione a guru nazionale di Gino Cecchettin, il padre della giovane vittima. Secondo Feltri, c'è un'ossessione mediatica attorno a questa tragedia, definita come insana. A titolo di esempio, ha criticato la prima pagina del quotidiano Repubblica di qualche giorno prima, che presentava la fotografia della stanza di Giulia con il titolo, Nella stanza di Giulia, suggerendo che tale approccio trasformasse la vicenda in una sorta di spettacolo di Hollywood, con il paparazzo che si intrufola nella sua casa. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!